dovremmo guarda puoi lasciare così tanto a me e c'è nessuno no è perchè nell'altro verso era quello che volevo modificare cioè? no se si accendi vediamo come si vede non si vede niente si è piaciuto meglio no se si vede bene vedi la vedi se si sente facioli col sugo si si sente aspetta che mi allontano ora mi metto dove sta prendi pure il taglierino ma visto che c'è stai si si sente bene ma perchè c'è il taglierino si oh maverina cesano cesano Aiaiaiai Facchiamo qua Ecco la Fai barba mi troppo Ti amo la storia Ciao Babi Hola Tutti presi col telefono Volevo mangiare Si no è bellissimo che Che se vado su Twitch Mi dice Ah aspetta aspettando tutti Oh ecco la forza Punta al sole Ah ecco adesso ci siamo Ah pure con quello stai Vabbè però No no infatti Eh lo so Volevo mangiare Volevo mangiare Volevo dare il link ai nostri amici Cioè sta cosa dopo cena Proprio perché io volevo mangiare Non potevo aspettare domani Volevo mangiare Volevo mettere il link per gli amici Ecco pure Bicchio che sta a chiedere il link Fammi dare un attimo il link Allora condividi Si mangia Si mangia Si mangia Si mangia Do sta quel nano del bicchio Non lo so Lo mangiaio Intanto i tre tieni nostri amici Tre tigri contro i tre tigri Ma non lo so Dovevo aggiungere Cicci ci senti Ci senti bene Ho aperto l'altro pacco Un altro video poi lo preparo Appena il pc riparte Adesso non si vede ma praticamente ci stanno lì da soli a parlare delle cose loro e quindi niente non potevo giocare perciò volevo mangiare ma oltre a non poter giocare non posso neanche mangiare triste vita a me pare che qua l'unico che si sta impegnando per non menarti sono io lui ti sta impegnando per non farmi mangiare anche però quello è ah devo spegnere l'altro ah beh che al massimo così sentiamo bene bene io però queste cose non le capisco è successo oh ciao Ricky riccardo è un mio thank you mister mondo 99 puntazioni stanno seguendo ringrazio ringrazio si buono che ci fai mangiare adesso tantemi tantemi però sempre solo io che faccio le cose io bagno ma voglio dire più di quello maledetta dove sta dove sta babbi chiama Henry ci serve gente ormai sono due mesi che per colpa dell'occhio non mi collego thank you io ho fatto la storia ma io ho aperto mi ha ammazzata è aperto come lo gambo perché perché allora vuoi la storia vuoi la storia su instagram ragazzi ditegli che le cose se fanno se fanno seriamente se fa una volta fatta bene quando è che mangiamo tutti i giorni cioè si mangiamo tutti i giorni ah così ecco c'è anche l'acqua c'è anche l'acqua di servizio visto l'ultima volta che Veronica che cosa l'ultima volta Veronica sono andata a scuta a dell'anno peccato che nel video che abbiamo fatto non si vede no però adesso lo sanno allora vabbè dice direi che ci siamo quindi si stiamo tutti aspettate stiamo tutti aspettate ma maleducata maledetta allora vediamo un po' che c'è sta io volevo aspettare almeno quel nano del bicchio vabbè quel nano del bicchio non c'è sta però intanto bevamo un goccio d'acqua che ne dava anzi no aspetta noi ci avevamo lasciati qualcosa da assaggiare io vado a prendere qualcosa eh vabbè allora i Kit Kat già li conosciamo però a parte che c'è un pezzo di long 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 perché ormai è corto e colto però ma perché non l'abbiamo manca aperta sta roba no sta roba non l'abbiamo manca aperta ma la muo ammazza vabbè senza hai distrutto tutto la regia adesso li faccio vedere così mi toccava pure da valletta allora allora abbiamo allora abbiamo yes abbiamo questi Kit Kat qua che sono un liquore che sono un liquore a la prugna poi abbiamo la caramella long long spero che conosciate tutti la pubblicità è cultura è fatto di cultura poi ci abbiamo questi che so questi è al cocia se non mi ricordo male quindi al tè rosso al cocia penso no no era qualche sempre tè loro a qualche tè loro a loro chi credo che giustamente Riccardo ha beccato subito la realizzazione di cultura poi ci abbiamo quelli che sono il ciclo a fragola il ciclo e poi abbiamo questi che abbiamo già assaggiato questi sono gli unici che abbiamo già assaggiato che è educazioni educazioni menta menta e limone allora ma questo l'avevamo assaggiato la pò questo l'avevamo già assaggiato io voglio mangiare tutta la roba dobbiamo mangiare tutto se magna tutto non se lascia niente educazioni non lascia cose mi piacciono adesso è il primo o poi che trago sto marito fa corso fa corso fa stronza fa stronza è arrivato pure il bicchio ciao bicchio salutato ciao non è maledico succa ecco vai subito a farse riconoscere io vado a prendere il bicchio ma almeno almeno lui mi dà mi dà mi dà mi fai mangiare mi fai mangiare apri io voglio almeno un culo che mi assista certo bicchio cioè tu stai qua dietro non ho bastato ah no c'è il copri no c'è il copri no c'è il copri nano sparano i nani a vista aspetta vabbè insomma che devo mangiare dai cominciamo con il bicchio che poi andiamo alla scoperta dei nuovi sapori è nifame io ho detto che è nifame come credi è piccolo ma è cattivo è un piccolo stronzo allora dopo questo affetto gratuito possiamo finalmente mangiare si si ma perché non ho messo queste cose qua io devo aprire le violenza devo fare così non dobbiamo assaggiare prima quelli ah eh dovevo far così fai quella faccia stupida uno 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 ce l'abbiamo 200 come uno uno ic 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 kitos futas chi kitos futas mamma mia mi dite che volevo mangiare per favore apri open open your mind allora che sei mangiato questo lo mangio volentieri perché mi ricordo che era buono era limonoso che era eh sì questo ciclos ciclos mink vabbè questo è nettamente un condorello quindi ottimo per per natalizio ti riesco a inquadrare l'interno giallo e verde beh sì si ti vede più o meno eccolo sì questo è nettamente un condorello quindi se vi capita una cosa del genere andate sul sicuro non vi vogliono uccidere questo condorello il condorello basta poi la fragolina lo fragolone come bello sto allora io apro la fragolina questi dall'ultimo viaggio in Giappone io l'avevo riportati a qualcuno come stuvenire l'ho dati sentivo di fragola di quelle chimiche finte che tipo sarà una radice di qualche albero marcio africano buono sì sì bicchio se faceva schifo sicuramente dai modatura a te è inutile che dili il bomeno beh bicchio si è mangiato il pesce mi è gregersa il pesce mi pare che ho riportato il pesce non è buono mi piaceva itatakimasu mi ha mangiato un condonello come hai fatto non mangiare un condonello è grave vabbè sanno del gelato quello alla fragola quello come si chiamava vabbè che cazzo sto parlando io non mangio il gelato alla fragola c'era quel gelato quel gelato mi sa che è della aiutatemi qualcuno mi aiuti il gelato quello tutto fragola con la banda bianca che dentro è mollato il fior di fragola il fior di fragola no c'è tra niente non c'è mai la lingua l'erio non è vero allora questo all'interno è così invece si il fior di fragola per il cab e il fortone c'è state che massistiche qua tra chi non ha mangiato i condorelli tra questa che non riconosce manco il sapore di fior di fragola che tu ha ciò da pescara te li porto faccio un bel bar faccio un bel bar faccio un bel bar faccio un bel bar vai bevemosi questo bevemosi in Roma ma dov'è la mia baby non c'è più non c'è più Barbie Barbie me princess of the twilight si nella lista di venti c'è tu se vedi qualcosa che ti interessa dimmelo my love che te la porto immediatamente si comunque c'ha ragione bicchio questo non c'ha proprio un colore in vita ma questo non lo ricordo anche dall'odore si si anche perché tanto me li sono mangiati tutti io è tipo legno è tipo schifo non so se la faccio no il sapore non è male il sapore non è male un po' colore mertino pure l'odore qualcuno ha scritto qualcosa non l'ho fatto in tempo a leggere Barbie ha detto come fa la lista della spesa ma sai che questo sembra sembra quasi il caffè non sembra il tè forse a te piace domani te lo porto il bottino si a me non piace perché non piace il caffè però c'ha proprio l'impressione di essere quel caffè c'è qualcosa di profondamente sbagliato ci mostri le minne no c'è una maglietta non è da cambiare la maglietta dove vai è qua faccia mangiare vi interessa le caffè le ma questo è ancora sigillato quindi manco abbiamo voluto di terra questo pure l'avevo portato quindi voi vicini probabilmente l'avete già assaggiato ma ho portato talmente tanti kit kat che comunque gli stili guarda facciamo i nerd come come vabbè era tanto che me la mettevo quindi il tuo madre era una marlock ci servirebbe letizia per questo eh maledizia non c'è che sei che manca vedi che c'è questa streamlabs che minaccia che smettila di scrivere grande la streamlabs è arrogante parcoato che cos'è è quello al liquore al lume al liquore al lume mi pare no non lo so che non si è perso il secondo l'ho lasciato da sola mamma mia l'amore questo qua al liquore che gli avevamo portato al ruma dovrebbe essere il ruma quella ruma a buona al liquore a buona questo gli avevamo portato al tuo madre sì sì il sapore è delicato il sapore è bianchino a chi piacciono le cose comunque col sapore dell'alcol piace non è bel sapore dell'alcol ah beh leggermente si sente comunque che c'è il liquore no sì ho paura perché devi cambiare roba in bocca nei pasti del volo questa evviva vediamo un po' che scevorio oh patate evviva migliaggi di patate allora noi di solito questo neanche lo guardiamo preferiamo farci del male così io però mi bevo un altro concetto d'acqua perché si tra l'altro pulisse il patato e abbiamo del caffè ragazzi del caffè bellissimo con un tizio molto concentrato a prendere una spada non voglio far notare il mio boccale perché io bevo solo i miei boccali no mi sta dilettante qua si dica l'acqua addosso basta con l'età ma mi ha rotto l'uomo eh ma dai allora da che cominciamo? cominciamo da questo? c'è la scatolina bellina? dai vado a fare la palletta crema colon che è? crema di colon non mi preoccupa allora ho letto Barbara ha scritto porta questi alcolici che con la mascherina poi tutto il pomeriggio viene poi una cosa divertente allora vediamo un po' che cos'è fragrant sweet potato dai dai si comunque c'è scritto a poco coronto iasomo vabbè ma come si allora è pieno delle vignette di aprirli ecco qua 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 una open ecco lì comunque loro loro stanno fissa per le scatole queste roche c'hanno proprio le confezioni vedi che è una colon ah è uno ha una confezione con tanti piccoli dentro tirava una bellissima ma io non ho capito che lo fai non lo so ma il colore è bello del pacchetto sembra tipo una roba con dentro una crema no io non lo so no non lo so mamma mia vai vai ma è duro non è morbido eh eh tocca un'altra cosa è fuori duro dentro il mollo che pare è un sapore strano se ha il maiz al maiz io l'hanno solo raccontato no no qua è allora è patata ma non è normale no è strano è un sapore strano aspetta voglio far vedere la consistenza allora faccio vedere prima come fuori che è così e dentro è mollacchioso sì che l'ho detto sembra proprio di colon ma è una cosa che abbiamo mangiato di peggio l'ultima volta vabbè il video mi sta sentin male a un certo punto abbiamo dovuto spostare proprio per mano tutto è andata l'asputà tu ti sei senti la mano sì però a parte quello no non gliela potevo fare allora tu torni nella tua bella scatolina e rimaniamo niente questa volta è tutto viola e giallo quindi rimaniamo sul viola e sul giallo e andiamo con queste ma è per te patate dopo il dolce stavo bene quello era un ibrido quello era un ibrido non sa manco lui che è ho visti pochi lastimano non sbirciare ora c'è il buio dopo allora sì effettivamente era un po' dolce ma tanto qui non vedo altre cose dolci ma poi che te frega mischia tanto può essere che questo ti pensi che è salato invece è dolce quello può essere poco allora ci stanno le patate gialle e le patate viola vedi il pacchettino guarda che secondo me è dolce oppure questo perché profuma le vaniglie beh sì nettamente le patate profumano sempre di vaniglia è proprio una cosa tipica odorano di vaniglia sì però è vero all'inizio sembrano dolci però poi sono non so salare perché sono di me sono zuccherate sì sono dolci è strano sembrano no le chips però comunque quella consistenza la però è qualcosa dolce sì tipo e la viola e la viola hanno un sapore leggermente diverso però sì sono dolci vedi vedi tu un malfidato fidati fidati del viola adesso prendi questo che è? o sdrufolo con un omino tanto carino che lo fa oh è morbidello mi sa era perché ormai è è morbido ne la posso trovare ecco ho capito che ne so io che è morbidello pensavo che era più o meno quella consistenza lì vicchio ma l'hai sentito l'audio personalizzato che c'è quando ti scrivi dovrebbe starci allora c'ha lo stesso odore delle patatine di prima sa fa chilometri se fai per contapassi sì l'odore in effetti è sempre quel pseudo zuccherato questo era sano e questo all'interno vabbè è tipo un rotolino quello che vengono all'euro giustamente diventerà l'assetto del colon di prima è uguale è uguale allora sa di chimico vabbè sa di chimico vanigliato cioè riputta dentro vabbè volevo bere il caffè non è peggio di tante meredine che no no sa di chimico è apposta di volevo bere questo beh l'ultima volta la pantaluga te la siamo portata dietro che non ci ho pensato che forse andava sbattuto ma forse era già sbattuto me leggi oddio leggi vedi c'è di peggio comunque vabbè questo è semplicissimo caffè ma fa fare caffè è caffè allungato e succerato però ne è male questo nel cappuccino sta bene io ande cosa sai peggio intanto io scelgo i pochi si questo comunque è caffè nettamente zuccherato non so se conoscete lui se magari è qualcuno a parte c'è scritto popo cohi se conoscete questo personaggio magari è di qualche anime di qualche porno che ne so qua spada a mano vabbè effettivamente ce l'avevi nelle sue mani cioè allora i pochi è questo penso che sia questo anime qua dovrebbe essere anche una serie quindi magari la stanna crepata che è uscita sta cosa ti già stai a mangiarlo così no no fischia testi no ma che è c'è dare c'è dare latte sono riuscita a fare i pochi che fanno schifo cioè è difficile fare i pochi che fanno schifo allora sa del cioccolato ma sa pure del formaggio eh sì c'è e c'è l'odore delle patatine di prima quindi forse le mani mie no le mani mie no ti è divertida sì allora l'odore è delle bufo allora i pochi li fanno buonissimi e li fanno a 800 miliardi di gusti ma che strano no è formaggio proprio cioccolato il formaggio insieme no questi non non brillano è illegale in 15 stati questi domani li porti a bar sto pensando a te dammi il caffè va è bello che ti dicono pure come che le confezioni sono le istruzioni ma adesso non c'è più niente di dolce c'è sto coso che metà un sacco senso di coreano in realtà che ma questi erano buoni questo di kitkat nuovi alla cheesecake ecco questi si possono la cosa che mi preoccupa è che dietro restano le istruzioni per mettere al microondi e al freezer ne sa che vanno fatti ma da fare di questa cosa allora davanti si presenta così e sì i miei colleghi e dietro quindi allora leggiamo insieme ti legge ma ci stanno le istruzioni qua sopra le istruzioni no c'è sta scritto che roba è qua sopra allora vanno messi in teglia vanno messi al microonde o al forno penso però qua sopra al microonde in realtà 1000 watt per 3-4 minuti e poi mi hanno messo il freezer scusa li devo aprire va bene assaggiamo uno così perché tanto penso che quello lì è per farli per farla cheesecake cotta però affigo la scatolina questa la carta pare quella di così di quando fai pop corn al microonde questa carta lì per lì l'ho scambiata per le fonsis un attimo quindi dici che stiamo mangiando così ma sì ma le che va fa schifo io sono tollerante a lattosio quindi la parte finale la conosciamo intanto a prescindere da è buono o non è buono sei qui scatate quello che stai a fare di prima sì quello mezzo coreano raga puzza di formaggio queste sono le patatine al formaggio sì sì formaggio questa formaggio san poi lì voglio fare il forno so come sono curiosa c'ha lo stesso sapore di quella alla fragola no nettamente diverso sa di aglio è una scena ricorrente vabbè io lo mangio un altro torno cicci te lo porto poi a casa te lo fai al forno che cosa il kickat il kickat allora questo qui mi dà senso di essere sempre dolce quindi potremmo proseguire con sì che è pollone chi ha è 6 da gioco non ce l'abbiamo vedi te lo dico è senza è senza gioco e allora hanno finito tu non c'hai più voglia di fare lì quella eh no è perché mi importa poi faccio il giro di qua e poi arrivo ma se io faccio così ma con ste mani pieni di dita certo chi è farò di dietro non è capace a fare la palletta io anni e anni le squadronne quel giorno vabbè questo è il biscotto norio rock è un lizzo col cioccolato poi abbiamo i croccantini per cani dov'hai qua vedi funziona uguale non serve se ti alzi vabbè non si vede benissimo no è vero che si vede benissimo che sono croccantini per cani sta bagnando tutto il biscotto non bagna cazzo vuoi stai vedendo tutti i zuccheri al caffè stavo così un po' oddio dai roma regà qualcuno mi ha cagato nella bustina delle patatine non mettevi a fuoco eccola ecco la cacchetta guarda zucchero caramellato allora io questo penso questo è mais caramellato queste sono le cose le noccioline tritate e caramellate quelle a parte che c'è di tegnata questa è una nocciolina che le bridano e le caramellano quindi invece che fa come noi le feste la caramelliamo fuori allora adesso questo non si capisce se è dolce o salato e questo non si sa proprio che è perché abbiamo sto cosa pseudo coreano e poi abbiamo una tartaruga non so se si vede la tartaruga vedete la tartaruga un po' più su un po' più su non si sa dove sto un quadrato non lo so eccola la tartaruga e anche oggi Veronica non c'è mai come il giorno dopo le facciamo le due mani che cos'è? la tartaruga adora di piedi i piedi da tartaruga che strana forma è una tartaruga una tartaruga nuve è una frumina di una tartaruga ditemi voi questa dove cacchio è una tartaruga cioè voglio sapere che tartarughe conosce conosce Veronica e ditemi voi aiutatemi voi perché poi pare che so io è una tartaruga eh ma io ne state zitto è un po' potorna mmm questi sono gli snack quelli di riso questi che c'è una parola quelli che ti danno pure al bar quelli peccantini tonti a copoletta di solito sono rossi un po' piccanti però questi non sono piccanti allora il il piatto coreano non è un dolce questi sono buoni a giro questi sono buoni in culo e forza prebocca allora io direi ah ci stanno anche loro questo secondo me è un dolcino mamma mia ormai che scioltezza nel caso che voi vedete soltanto un lato di potanta per stanza fisica non per sputare cerchiamo di capire questo che cos'è ah dal disegno si vede tipo della gente che sta a preparare i mochi e un tizio che sparge roba sui satura quindi vediamo che cos'è saranno dei mochi secchi al satura no sono altre patatine altri altri perciò dolci sono finiti questo non si sa che ma saranno patatine pure loro ok allora passiamo col che l'acqua che si è suicidato quel finto mochi al satura che non è un mochi al satura beh speriamo che non è al satura perché roba al satura l'abbiamo assaggiata e fa sempre schifo è stranissimo è un salatino questo è buono questi stanno bene la birretta a me piacciono molto più di questi infatti questi ti danno un po' poco la birra nei bambi però questi sono buoni basta ci stanno questi si sono stupitelli questi si sono fatti adesso ci sono questi altri che esteticamente sono praticamente identici però sono un po' più rossicci e infatti oh dio dom dom questi sono piccanti sono piccanti? non vi dice un po' più peperone adesso la cibo è piccante io non so male meno male stavolta ci sta di bene l'altra volta ci stanno le patatine tipo alle zuppe viene d'aglio al secondo mangià questo pure l'aglio devo dire però questo almeno senti piccante l'aglio devo perdere allora questi io sinceramente neanche li aprirei perché sono ma davvero se apre e se mangiano ci mangi te sono buoni si no sono buoni però sono un po' insursi che lo bevi guardamelo sono tipo gli avanzetti dei spaghetti soba eh esatto tipo un po' secchetti così che fanno franificarci ma poco in mostro a me interessava questo poi c'è lui è il nostro bugile preferito gustavo questo si quelli c'è pure è il bonito quella però questi qui non lo so mi ispirano però la confezione è carina vedete come so questi questi vai proprio a manicciare non riesco a più le patatine non riesco a più niente questi hai il capo lì buoni che è? apri non c'è riasco sembrano tabuliari adesso quelli dai avvi ho provato dei peggio tipo voglia la rilieggia avevo comprato un attore addoni è uno stranissimo sapore ma che cos'è dimmi dimmi esplica esplica i tuoi pensieri che cosa ne pensi della lezione di oggi del fuori caneri dov'è? qui non come di più allora stiamo mangiando la Tokyo treat che è una scatola di snack da Giappone ogni mese adesso nello specifico stiamo mangiando questi Veronica è andata a scudare non è vero io sono andata a fare una commissione si che hanno un sapore veramente indescrivibile non posso non posso dire a cosa assomigliano perché non assomigliano a nient'altro allora c'era andata troppo bene fino ad adesso abbiamo mangiato anche roba discretamente decente questi hanno un sapore strano misto tra il formaggio l'acidulo della come si chiama della melagrana e altra roba la melagrana io non l'ho manco ho fatto crunch poi mi hanno tomato dell'aria quindi non dopo c'è mi hai sempre lasciato la luce accesa come sempre no c'è comunque di bene stiamo mangiando la tocca e treat c'è arrivata la tocca e treat di novembre ne ho un turbinio di sapore ma il turbinio di sapore non ce n'è uno buono in questo allora io direi siccome c'è questo tizio che ha la testa che sembra o una cipolla o una melagranata dopo la bocca sì senti ti ha da pure la bocca e piedi allora questa volta mi alzo io cioè questo che mi inquieta abbastanza mi inquieta tanto aspetta intanto faccio vedere il nostro pubblico aspetta ai dirà guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua maigo ecco chi è? vabbè detto ciò adesso ci abbiamo le puff alla cipolla la cipuff? ma è che poi la d'orema non sembra cipolloso eh lascia stare che poi questi li tirano fuori no non è ammalaggio no non vuole così eh io tutte le cose li devo assaggiare in due perché il primo è per conoscenza vuole il secondo per confermare io invece giustamente dice il barbie dice vede quella mascherina quella fiata che poi voi non potete provare ma se vi tagliate la barba e vi mettete dopo il barbie la mascherina tu stai fatto tu per 40 minuti stai fatto la d'entra la mascherina e ce la vedi in cazzo eh Veronica lo sa per ogni volta che mi capita e mi scordo e mi tagli la barba dove mette la mascherina è in un magico mondo detto ciò ci sono rimaste tre cose allora la prima è questa con un simpatico signore vediamo dimmi se si vede lui si augusto ah comunque è il carry questo nella grafica di presentazione c'era il cane che portava a spasso i kicker ma c'era il nipo questi puzzano questi puzzano proprio chi è? che sono? ah quelli che vuole un nipo al carry però dai allora queste puzzano però in realtà hanno un sapore normalissimo sembrano i trissini quelli che stai mangiando alle feste si però con un'altra consistenza ma e poi leggermente il carry alla fine è proprio una bobo bobo si per me cate di caldo ah io mai un po' questi so con il doleman che si mette in bocca ah questi pure penso di averli portati probabilmente l'avevo portati per mazzo io poi si e sta roba avevo riportato il pappone si da 12 sapori noi pensavamo che era roba dolce invece poi era un tipo mega patatine a tubo io te le portavo a merenda sono esattamente ah vedi queste c'era pure la la possibilità di beccarne uno dei due no no quindi vedi che culo eh quindi se poteva far ma tu potevi trovare ti potevano mandare o quelli al colon o biscotti alla castagna e noi a culo naturalmente abbiamo prendo proprio la creme della creme il top del top allora questo è formaggio vabbè ma questo è cheddar è puro cheddar sotto forma di patatina ma questa è confezione di kit kat c***o abbonatevi a tokyo treat non lo so non lo so non è male però c'è darlo sotto forma di patatina vabbè è cilisù c'è scritto allora siamo arrivati alla fine allora questa che stiamo facendo noi è la premium io ho fatto l'abbionamento annuale che erano 300 e passa pippi dovrebbe essere una una trentina di euro al mese 30-32 euro al mese per la premium c'è anche la classic che c'ha 7-8 cose in meno e veniva una ventina di euro mi pare quel libretto mi sa che c'è scritto le cose che so a breve mi dovrebbero mandare pure il codice referral così magari c'è un po' di sconto allora adesso non so se si vede praticamente queste sono aspetta che vedo dal cellulare che cosa ok queste praticamente sono le cose che abbiamo trovato noi all'interno questa parte è quella che c'è nella classic noi abbiamo la classic più il premium quindi pure queste altre cose quindi di base la differenza poi all'atto pratico è questa e così per tutti i pacchi praticamente quindi ti arrivano delle cose in più tipo l'altro mese ci abbiamo avuto la fanta insomma la fanta nuova infatti la cosa non è conveniente perché conveniente non lo è però trovi cose che qui non trovi che mangi soltanto là tanto ormai le cose convenienti non ci stanno quindi io mi ho detto vabbè dai visto che ci sono stati facciamo sta cosa e ci assaggiamo un po' di cose strane anche perché io andavo in giro al donkey proprio a comprarmi le cose strane lei li può confermare noi al donkey ci abbiamo lasciato proprio così sì a parte vabbè ci stavamo le ore i heat cut veramente eravamo massimo i massimi acquirenti poi ho comprato le matadine a ciliegia che ho stato di prima le pringles ho assaggiato 6-7 sapori che qua non ci stanno tra qui i tapoyaki c'era poi noi principalmente c'era un sacco di roba noi abbiamo invece di riportare le solite calamitine cose eccetera abbiamo portato direttamente roba da mangiare perché tanto era pure più carina come cosa e quindi ci siamo portati veramente i pacconi di roba e poi dopo al lavoro portavi amici serate e però ci mancava un po' sto genere di cose perché lì veramente si sfondavamo male vabbè io ho assaggiato il panino con gli spaghetti ho assaggiato roba che voglio fare lui stava in fissa entravamo nei supermercati e non è che andava a guardare la roba che noi non c'avevamo no andava a cercare la roba italiana no andava a cercare la merda la roba fatta a cazzo di cani e quindi lui se gli andava cioè proprio gli brillavano gli occhi quando vedeva ste paste tipo a carbonara amatriciana sti panini con dentro gli spaghetti alla amatriciana gli assaggi prendono ci sta sì vabbè però abbiamo scoperto anche cose buone così gli umai abbiamo scoperto questi vabbè però questi perché l'avremmo presi comunque perché non è roba che qua si trova è il panino con gli spaghetti vabbè quello che c'è schifattato però c'è la gara vabbè chissini al pesce che non l'avremmo mai presi così in realtà erano buoni piccoli assaggiati può confermare cioè buoni era una cosa strana sono sapore che non senti anche tu hai preso il panino con gli spaghetti vale rispondi sia onesto anche tu sei andato al supermercato a cercare il cibo italiano vabbè il cibo italiano però non l'ho comprato lo tiravo via vabbè che abbiamo preso la fanta la pesca quello c'ho il video pure vabbè però la fanta la pesca eccetera eccetera secondo me c'è sta pure dai ce ne erano cose strane stasiamo facendo un barattoletto piccolo così stasiamo portati è rimasto l'ultimo è rimasto l'ultimo porca la caccia è rimasto l'ultimo che sono semplicemente fai tu potteto sì sì tanto quando loro meno te l'aspettano ora c'è non so forma di pene che ne so c'è qualcosa scusa Max Cortese ah ma sono carine no se non mi fai mangiare quindi ti faccio rimangiare questi ti faccio mangiare vabbè erano tisperi vabbè queste sono semplicissime vabbè sì queste queste non so niente infatti abbiamo lasciato la cosa più banale per l'ultimo vabbè voglio sapere perché c'è un bambino arancia un bambino arancia quello è un bambino patata ho capito c'ha la pelle buttorellata c'ha l'acne voraccio forse mangia fried potato usa eh questo è pur dell'america hai capito c'è fried potato americane proprio se vuoi fare con long long man ma long long è rimasto un pezzettino guarda pure la faccia di l'amico di long 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 voi ormai siete esperti di long long voglio dire ho mandato tutte quante so undici pubblicità cioè tutta la storia di long long ho fatto video ma ancora non c'ho il mio max cortese grazie eh vabbè long long lo devi dividere cioè questo non ha imparato niente ma gli volete di qualcosa qualcosa però veramente qualcosa si mangia così qui qui non è velata se la vedi fino alla fine la pubblicità non è velata per nulla bene direi che abbiamo finito abbiamo ricicciato fuori anche cose dalla sotto ma c'è altro non c'è rimasto più niente di quelle vecchie ti sei maniato tutto tu vabbè non quasi stanno quelli al zago che hai fatto di avanzo in sé vabbè vi hai portato tutto all'amici tua o quelli al zago capito barbie lui guarda che secondo me se apri là sotto mi sono rimaste quelle cose schifose l'ultima volta un uomo ti faccio vedere io ma dove dici? qua no, quello ho portato via tutto al lavoro sì perché al lavoro ogni tanto vi faccio far da cavi vi faccio mangiare la monnezza queste ce le siamo tenute però queste non erano male quelle no, erano buone erano popocorn caramellato vedi la caramella al ramone a parte che è una forma improponibile ma questi erano buonissimi quelli sì, quelli erano veramente buoni ma questi erano proprio buoni però questi erano molto a gusto nostro cioè nel senso non erano niente di così particolare sono sapori che si trovano pure qua una caramella che friggica che ho dato una culata al coso? sì, vabbè ho portato poco ma vabbè una caramella che friggica dentro poi diventa liquida ci hai avanzato a sta roba dell'ultima box questo che è cioccolata al sapore del gelato con roba che non è molto buono poi vabbè tipo le gommine queste erano gommine c'erano all'arancia e poi queste queste ne abbiamo manca aperte poi che altro? basta le altre cose te le sei portate tutte via sì non ci abbiamo niente qua queste sono tutte le cose ma tutto ciò è il mio computer che ha deciso di fare? ah beh vabbè quello io l'ho fatto vedere bene è finito ma rispondi alle nostre domande dei nostri dei nostri amici avete domande? c'hai del coraggio di chiedere qualcosa? si è allontanato il Nino? si è allontanato chi? te sto benvenendo non te va a fare il disco di ripristino quindi devi riscarica tutto che bello bene almeno abbiamo perso un po' di tempo io sono soddisfatta però speravo ci fosse più cosina al cioccolato perché c'avevo voglia di mangiarmi no io meglio così perché cosa al cioccolato fa sempre schifo e dici che stai a fare? voglio far vedere le cose che abbiamo comprato per rifarsi a prima madre vabbè oltre il miso e quello serve sempre poi abbiamo comprato il bonito per fare il brodo abbiamo la carne al frigo fondamentalmente ci sto io che ho usurpato il suo canale Twitch e gioco basta che mi diverto e poi basta perché mi sa che lui non l'aveva mai usato in realtà ce l'aveva no le facevo le facevo le facevo un po' su giochi vari un po' di tempo fa poi dopo tanto tempo ti viene cancellato ti viene cancellato i video però non li riuppavo no adesso gioca principalmente a Gershin Impact su base l'ho lasciato un po' sta io ho Dead by Daylight a Monster Hunter mo dobbiamo cominciare quell'altro che però se il pc me lo consente se il pc si riaccende soprattutto scarico fa smofobia si si ma Gershin ha detto chi è? Gershin si ma mi ci metto anche perché c'ho un ragazzo calabrese Pietro ci gioco insieme lui è bello forte io invece sono rabbino satanato e non spendendoci i soldi sopra ho i personaggi ancora più pette quindi io ci metto un po' poi arriva lui invece quando è entra nella partita mia e sfra cacca tutti termine tecnico sfra cacca si soprattutto cacca io Monster Hunter sono una grande pippa perché a Dead by Daylight no a Dead by Daylight ormai dai ci diverto almeno non lancio più il mouse quando mi metto paura io mi diverto più lei a Dead by Daylight che hai detto? in italiano allora non è colpa mia se mi spavento è un gioco horror anche quando sta da sola si spaventa no infatti ha pasmofobia là sono veramente curioso ma infatti già l'altro giugno sta ne cacca sotto a Monster Hunter l'altro giugno Harry abbiamo mangiato tutto ormai non è rimasto più niente mi dispiace vabbè io puoi fare una rapida carrellata vieni fagli rimedi tutto facciamo una rapida carrellata allora buono non me lo ricordo ah non male è quella che arrivi carri carri maio patatine normali anche questa è la verità questi sono tipo salatini sciapi sdrufolo al formaggio termine sdrufolo biscottino classico al cioccolato se per io questi non li so descrivere sono pezzi di pasta avanzati trasformati in snack in snack come quando te magli gli spaghetti gli spaghetti grudi soltanto che quelli sono insaporiti e sono più morbidi degli spaghetti nostri poi abbiamo un fantastico caffè brandizzato da qualche anime giapponese poi abbiamo ah questi sono praticamente tipo sempre dei dei grissini no dei grissini che so questi non mi ricordo sembrano tipo i costini del pane che si mettono dentro e vellutate praticamente però piccanti giustamente chiedono dalla regia che vuol dire sdrufolo sdrufolo è quello sdrufolo poi il kit kat al cheesecake che però per apprezzarli appieno andrebbero messi in forno che brutta merda poi abbiamo buone ah delle patatine schifosissime che se vuoi sperimentare la morte ti porto così le assaggi anche questi raccontano molto da vicino la morte ah poi abbiamo questi che praticamente sembrano i mikado classici però in realtà hanno un retrogusto di formaggio ma io fra porte salato poi ah queste che sembrano patatine e invece sono tipo vanigliate le porto tutto le voglio le piani poi ah no questo non ce l'abbiamo pseudo finito vabbè questo era un altro un mini sdrufolo di quelli morbidi quelli che vendono pure a discount praticamente è tutto sdrufolo le girelle eh però era lungo eh vabbè capito una girella lunga ah poi questo questo che era ok la cacchetta e cose le noccioline ah queste sono tipo il trito delle noccioline caramellato però è molto meno forte il sapore rispetto a quelle nostre da fiera ah questo l'abbiamo già visto il kit cup queste poi ah le tartarughe erano sempre roba caramellata che roba no non mi ricordo non mi ricordo manco io sono 15 cose sono 15 ho detto quelli da bar ah ok questi sembrano tipo i salatini che ti portano quando vai a bere birretta al bar quelli di riso piccanti e poi questo che è stato il primo che abbiamo assaggiato che è praticamente una specie di sfoglia di mais con dentro una crema vanigliata strana non è mais ah è patata non l'avevo capito vabbè è la sweet potato e non l'ho guardato e poi c'erano i vari kit kat ah e poi c'erano i kit kat che se volete vi porto domani praticamente c'è quello alla sfogliatina con le fragole e gli azucchi poi c'era questo al tè che però sta di caffè quindi già se l'è prenotato Barbie e poi ci stavano questi che probabilmente a te piacciono perché so tipo al liquore e poi altre cosine che commentavamo con amici io direi allora assaggiando abbiamo assaggiato tutto pure quelli alla citronella la citronella ah è vero c'è pure questo eh questi forse anche mi piacciono allora io vorrei dire e quindi questo lo metto proprio a portata di tutto che è l'anno scorso quando ha portato le cosine dal Giappone sì l'avevo portata della roba ha assaggiato tutto senza fare lo schizzignoso poi voleva morire però ha assaggiato tutto così si fa uno da morte la deve affrontare in faccia bravo Harry bravo Harry Ricky per te è un po' più difficile però ah Ricky io vorrei però mi hanno chiuso un attimo le zone quindi io non posso venire ah e lei si perde già due chilometri da qua però sarei venuta mi volevo un altro avro per questa acura però non si fa pensa c'avevo pure le fere settimana prossima già stavamo organizzando e andiamo andiamo a Pescara andiamo alla sala musica andiamo a vedere le cose e invece no mangeremo anche per voi bene direi che abbiamo finito detto ciò si è fatta una certa pure una madre mia 10 e 10 mamma mia io sono una certa mamma mia io davvero Toy Boy sono più giovane più giovane Harry la pognetta ma Harry guarda io le apprezzo le persone allora i colleghi miei nessuno vuole mai assaggiare qualcosa c'è giusto Federico che ogni tanto assaggia ma non ne assaggia nemmeno tutto pure lui un po' fa lo schizzino però assaggia però mi chiede prima come la come la se ogni tipo che è buono non mangia mai niente Harry pugnetto Harry pugnante no pugnetto lui lui sa lui sa lui sa non ci abbiamo nient'altro di cose strane basta no ma che caccio devo mangiare ancora non lo so io ci mangiamo il cotechino io direi anche abbastanza questa sai che poi scusa cioè lei critica critica i dolcetti quelli da tipo le girelle farzocche poi si compra questi è il trancino che vuoi dire al trancino e il trancino gli piacerebbe essere trancino questo che è il francino no è il trancino vero ti pare che io me è quello di marca pure ma sai che è brutto veramente brutto cioè io pensavo che era tipo il francino no non è il francino ma Barba ma Barba come l'hanno vista queste queste cose non so se a lei gli piacciono gli oreo ma tolgo il saluto a tutti e questi noi c'è una moncetta di queste monnezze con un aceto colzambio di un lavatore amareato a cipollina secondo me che piace quello di con il rivestimento di cioccolato bianco poi abbiamo assaggiato questi ultimamente rispetto a quelli che compriamo di solito molto strani allora quelli in chili non li comprivate mai perché c'hanno i pezzi di peperoncino dentro veramente fuoco e fiamme questi allora il sapore è meno è meno simile a quello a cui siamo abituati noi perché tanto in commercio facilmente si trovano questi si trovano questi abbiamo una dispensa piena ma i miei colleghi già lo sanno considerando una volta gli ho mandato la foto da social si trovano questi si trovano questi e basta continuare eh vabbè c'ho altri sapori delle stesse cose quindi vabbè poi dite a me che sono matta avreici un cassetto solo per i fazzoletti con dentro quanti spacchetti sono tipo 106 pacchetti di fazzoletti quanto so orgogliosa dei miei 106 pacchetti di fazzoletti ragazzi voi capite io sto con serial killer cioè mi farei vedere là dentro che ci sta guarda perché voi non potete vedere la mia dolce babbi lo sa però a lei mi apprezzo lo stesso vabbè perché ha capito che è meglio stare dalla tua parte che contro è sempre quello signorino non l'hai assaggiato ancora quelli di Oreo noi l'abbiamo trovato tipo era l'altra settimana l'avevo trovati sì a Povezia invece ho visto che alconad oggi ce li avevano quando l'ho visto ho fatto dubbio come? dimostra le tue abilità no ti fischia ti fischia fa ultrasuoni calcone stanno i cani che stanno a correre piano 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 che io rompi sei preferita non ci riesco riprovo riprovo perché stai ridendo ancora le va mamma mia Harry è il top Harry tu sei tu sei il grande sei il migliore sei il più bravo sei il più fantastico e le altre non me li ricordo però dritto destra un sol corpo un sol spirito cosa ha lui? eh? cosa ha lui? avanti destra come il nostro che mi guardi che mi sento osservata alle spalle e poi perché ti vedo da lì non vedendo bene che facciamo? ragazzuori noi io direi che vi ringraziamo abbiamo mangiato abbiamo chiacchierato il tempo l'abbiamo passato sì educazione ringrazio arigato gozaimasu pazzei po' hai guarda pazzei mi ha causato un un decadimento dopo pazzei dovevamo proprio chiudere peccato che io non lo so salte la foto no io voglio vede soltanto una cosa ai vari pescaresi così quando io avevo i capelli blu non erano blu erano verdi vabbè quasi erano scoroliti già ciao a domani Harry ciao Cicci Muzzi buona serata a tutti thank you, thank you so much